Ciao Roby Master, mi chiamo Ruggero e ti voglio raccontare un po' quello che mi è successo come puoi notare sono a Madrid adesso ed è il 26.05.2020 dopodiché te lo mostrerò tramite una banca che siamo esattamente qua sotto la stazione metro di Serrano allora praticamente è successo che ieri sera una persona che conosco mi ha scritto su Facebook dicendomi Ruggero ti ho visto sul telegiornale e io gli faccio subito ovviamente ma no ma è impossibile perché io sono a Madrid comunque sono fuori dall'Italia da quattro anni quindi non posso essere io anche perché sono qua a Madrid adesso e niente fatto sa sono andato a verificare il servizio è stato fatto sulla RAI, su RAI3 TG3 Piemonte del 25.05.2020 alle ore 19.30 e a 15 minuti e 50 più o meno si vede la mia immagine si vede a un primo piano mentre faccio un brindisi con amici con un sorriso e sinceramente io non ho autorizzato prima di tutto nessuno a usare la mia immagine e seconda cosa non è di oggi di questi tempi qua quindi questo servizio è un po' finto, è montato male perché non puoi prendere video di due o tre anni fa quello che è e montarlo e spacciarlo come i giovani che stanno bevendo adesso che sono di nuovo fuori quindi questo è quello che mi è successo e vorrò denunciare la cosa perché non lo trovo giusto mi sto informando bene su come posso fare e se tu puoi darmi una mano per per divulgare la notizia mi farebbe molto piacere ti faccio vedere intanto e non posso girare la camera che qua siamo al 26.05 2020 ok da questo sportello sono le 18.40 adesso a Santander e sono a Madrid come già hai visto la stazione della metro ma ti faccio rivedere questa qua è Goya, là c'è la chiesa che è ad angolo praticamente con Velázquez Cagliel Nunes de Balboa e dietro di me qua in fondo c'è Plaza Colón qui siamo sempre comunque a Madrid quindi spero che questo video ti sia utile e se hai bisogno di maggiori informazioni ti ho già mandato il numero di telefono posso mandarti diciamo possiamo parlarne e vedere un po' cosa succede grazie mille Roby a presto sei bravissimo fai un bellissimo lavoro e uniti tutti insieme ce la faremo un abbraccio dei gestori che hanno gestito al meglio quelle che erano le prescrizioni molto spesso anche un po' confuse ciao Roby volevo solo dire che queste informazioni sono per il canale Dentro la Notizia non esclusiva visto che mi aiuteranno a diffondere la verità grazie mille a Roby e al suo canale per tutto quello che ci mostrate un abbraccio ciao ragazzi carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate la libera informazione a tutela del popolo grazie del vostro sostegno e per la condivisione dei video più siamo più forza avremo uniti si vince divisi abbiamo già perso un abbraccio dal vostro Roby un abbraccio dal vostro sostegno e per la condivisione dei video grazie a tutti